Passare ad un modello di smart working non è un fatto semplicemente di tecnologia o di riorganizzazione del layout degli spazi e molto di più vuol dire rimettere in discussione quelli che sono alcuni principi assunti fondamentali delle organizzazioni tradizionali. In passato le organizzazioni erano fondate su principi come la gerarchia come meccanismo fondamentale di coordinamento, la formalizzazione dei ruoli, la standardizzazione, la proceduralizzazione delle regole. Lo stesso modello di crescita delle persone era fortemente basato su un concetto di obbedienza, di subordinazione. Ecco, man mano che le organizzazioni cambiano e diventano più orientate allo sviluppo di conoscenza, più orientate all'innovazione, servono dei modelli di organizzazione lavoro differenti. E allora i nuovi principi, quelli su cui poi bisogna misurare quelle che sono le iniziative di smart working sono ad esempio la collaborazione, la comunicazione, piuttosto che la capacità di valorizzare i talenti e quindi di promuovere l'innovazione. La personalizzazione da questo punto di vista diventa un fatto estremamente importante e il modello di crescita delle persone dipende piuttosto dall'empowerment e della capacità di conseguire dei risultati. I manager di linea che sono stati coinvolti nella ricerca ritengono che sia necessaria una riorganizzazione del modello di lavoro per diversi obiettivi. Gli obiettivi vanno dal fatto di avere maggiore efficienza alla ricerca di efficacia, alla ricerca di innovazione, di flessibilità, fino alla necessità di avere maggiore motivazione e qualità della vita lavorativa per le persone. E tutti i manager intervistati ritengono che le condizioni organizzative tradizionali non siano in linea con questi obiettivi, quindi dichiarano che molto c'è da fare. Quando ai manager di linea si chiede come mai la situazione sia questa, cioè come mai l'ambiente, il modello di organizzazione del lavoro sia rimasto così indietro rispetto alle esigenze sia delle organizzazioni che delle persone, la spiegazione che oggi i manager danno è innanzitutto che c'è un problema culturale, questo nell'84% dicono che il problema è un problema di cultura delle persone, oppure in altri casi, nel 78% addirittura dei casi, dicono che è anche un problema di commitment da parte del vertice aziendale, come dire, si tende a dare le motivazioni la colpa di questo stato di arretratezza tendenzialmente ad altri. In realtà c'è un'importante componente di cultura manageriale e di stile di leadership che può facilitare o rallentare il processo evolutivo verso la smart working. Quando poi si chiede ai manager quali sono le iniziative che fai o che intendi fare per raggiungere questi obiettivi e quindi per superare determinate barriere, le risposte sono un pochino più complesse, quindi si va da coloro che cercano di enfatizzare il ruolo delle nuove tecnologie per creare ambienti di lavoro virtuali, a chi enfatizza molto quello che è il tema della revisione, delle procedure, delle policy, fino a coloro che danno un'importanza molto forte alla leva dello spazio fisico, quindi alla ridefinizione dei layout.